Oh che bello, finalmente tutte le idee dell'allenamento sono stati completate e quindi usciamo e poi dacci il premio che ci spetta per tutta la fatica fatta in queste 23 parti. Caro Maruak, come vedi abbiamo finito tutti quanti i tuoi dedali, perciò dacci quello che ci spetta subitissimo. Un Gaudio Seme, ecco qua ragazzi, questo è il tesoro per aver completato tutto quanto, stelle everywhere, già. Detto questo potremmo anche andare a prepararci per l'esplorazione della Grotta Salmastra, posto che ci permetterà di andare verso la terra nascosta. Prima però, permettetemi di... ah ok, dicevo di prelevare qualcosina perché ci servirà per fronteggiare i nemici. Ovviamente come sapete i dungeon non sono mai vuoti e quindi è buona cosa magari prendersi delle provviste, chi lo sa. Non sarebbe una cattiva idea. Seme dormita, seme impeto, seme salute, stor di seme, elisir max per forza di cose ci serviranno. Un appello sfera, una blocco sfera, l'umisfera magari, una pietra sfera, la tarra sfera che può anche quella andare bene. E poi... Vediamo un po' che altro prendere su... Il Gaudio seme, non direi. Ok, mi sa che abbiamo a sufficienza. Ok, allora adesso dirigiamoci verso... Prima da Chai Meko e poi verso la spiaggia. Perché si dà il caso che Quindra vorrebbe vedere se c'è Grovile. Ma non credo proprio. Ok, togliamo Balrog. E adesso andiamo alla spiaggia. Andiamo? Ok. Capitolo 18. Lapras. Bene, dopo questo, il Gaudio seme e i preparativi, benvenuti ragazzi alla ventitresima parte. Da qui iniziano, diciamo, la parte seria inizia. Quella di prima era soltanto una preparazione, ecco. Un pre-preparazione. Sì, insomma, avete capito cosa intendo. Comunque sia... Oh, quanti bei ricordi in spiaggia. Ci hanno rubato il frammento antico Coffing e Zubat esattamente qui. Nella primissima parte. E fu la primissima missione per... Dare il via alla squadra. Eh, appunto. Adesso stiamo usando quel frammento antico apparentemente insignificante per andare... Alla terra nascosta. Sembra... Incredibile, ma... È tutto vero. Per la salvezza della Terra è necessario andarci. Non c'è soluzione alternativa. O arriviamo alla terra nascosta, ragazzi, oppure il pianeta... Non avrà scampo e... Resterà paralizzato e oscurato, come l'abbiamo visto nel futuro alternativo. Appunto, il futuro oscuro. Eh, Quindra, quello è un Lapras. Dovresti saperlo, tu. Compagna e utente youtuber esperta in queste cosucce. Intanto spunta anche il Tim Teschio che ha spaventato i crebbi. Ecco perché non c'erano a fare le bollicine. Peccato, sarebbe stato bello. Ma ormai non c'è. E adesso, ragazzi, ci sveglieremo. Ah, prima mangiamo, ovviamente. Senza il capitano Wigglytuff che gira in tondo con la mela perfetta sul capo. Però, pazienza. Tornerà. Intanto, nella notte, vediamo Lapras che si avvicina a una sponda. dove c'è appunto Wigglytuff, che deve parlargli in privato. Ok, fanno certi discorsi non molto chiari, però vabbè. Capiremo magari dopo a cosa si riferissero. Per adesso, ragazzi, concentriamoci sulla Grotta Selmastra. Dungeon che oggi andremo ad esplorare. Composto di nove piani, più cinque piani. L'altro Selmastro. Bene, bene, allora. Il capitano non sa dov'è. Noi lo sappiamo invece dov'è. Ma comunque sia. Ehm, certo, sarà il capitano per oggi. Nessuno è convinto. Beh, è normale. Di solito, il simpaticissimo Wigglytuff è il capitano, quindi è un po' strano. Comprensibile, però. Ragazzi, bisogna farci forza. Eh, appunto, prendiamo un'iniziativa, ragazzi. Non possiamo arrenderci solo perché manca un membro. Anche se è importante. Ma, appunto, per questo c'è Chathot che quest'oggi ci guiderà. Al posto suo. Forza anche te, Chathot, dai. Devi condurci tu, là. Esatto, diamo il meglio. In ogni caso, ad ogni costo. Sempre e comunque. Bene, allora, riecco qua i Farabutti. Che ci diceva Wigglytuff e anche Chathot. Sono apparsi quei Pokémon lì. Ok. Non si ricorda niente, quindi non possiamo sapere che tipi sono, né che attacchi usano, eccetera, eccetera. Però, aspetta, adesso aveva detto che ci hanno attaccato. E prima, il giorno prima aveva detto un'altra cosa, tipo che ce n'era uno solo. Eh, appunto. Ha detto che c'era un Pokémon malvagio, poi ha detto che li hanno attaccati. Mmm, c'era un Pokémon estremamente malvagio, ma non era da solo. Ok. E? L'hanno colpito con l'acqua. Ok. E allora, ragazzi, abbiamo un indizio. Tipo acqua. Contro cui Queen Dress è vantaggiata e io sono normalmente in vantaggio. Anzi no, io sarei un po' messo male anch'io perché il tipo terra non è che sia molto indicato come mossa. Anche se io sono del loro stesso tipo. Comunque sia, ci faremo aiutare da... Chathot, dai. Non avendo tipo erba o elettro al momento. E non potendoli aggiungere. Comunque sia. Perché Peyote potrebbe aiutarci, ma non possiamo condurlo qua. Purtroppo. Allora, Energy Palle e Lumisfera. Ok. Iniziamo già bene, direi. MT che vanno abbastanza... Cioè che non si trovano tutti i giorni. Attento, Chathot, che c'è qualcuno dietro di te. Ok, perfetto. Con una sola furia l'ha messo K.O. Bene, bene. Molto bene. Cerchiamo le scale come al solito. Ok, che direi ragazzi. Ho già detto che questo dungeon ha nove piani. Piove spesso. Altra cosa. Ma nell'altro salmastro può anche grandinare. Per colpa di certi Pokémon. E ho già detto tutto. Perché tipo... Ci sono tipi acquaghiaccio che possono innescare la grandine. E quindi potremmo trovarci male nella seconda parte del dungeon. Lì sono soldi? Sì. Ah no, era un semi-impeto. Immaginavo fossero Poké, ma no. Niente, vabbè. Pazienza. Allora, vediamo un po' di andare ancora più in profondità. Altro semi-impeto, ok. Mi fa piacere che ce ne sono così tanti in giro. Io faccio il livello 37. Molto bene. Protezione. Al posto di fangata. Perché, come vedete ragazzi, fino adesso usavo fangata per gli attacchi di tipo elettro. Ma se posso, protezione è una cosa molto molto più efficace. E quindi direi di sostituirla. Perché niente può sfondare protezione fino alla quinta generazione. A parte finito attacco, ecco. Quello può sfondarlo. E poi... Dopo... Anche in bianco e nero si è aggiunto tifone. Per rompere, diciamo, la protezione. Ok, intanto la giro ora si rivela un po' pericolosa come mossa. Meno male che io e Quindra ne siamo protetti abbastanza bene. Allora, cerchiamo ancora le scale? Direi di sì. Visto che qua tesori non ce ne danno. Almeno per ora. Oh, lo dico e ne arriva già uno. Wow. I culi. Il bello di essere di tipo acqua è che posso anche recuperarli in acqua se finiscono. Quindi non devo neanche preoccuparmi se ci finissero qui in queste pozze, insomma. In queste chiazze d'acqua. Non so cosa siano. Saranno pozze d'acqua, tipo piccoli stagni. Vabbè, chi se ne frega. È una grotta vicino al mare, quindi probabile che siano... Non so, vabbè. Lasciamo stare, va. Non so immaginarmi cosa siano. Allora, rivolta al seme avevo trovato. Meglio buttarlo via. Non voglio essere risuscitato in questo modo. Ecco. Che se lo mangi qualcun altro. Perché quello, ragazzi... È il simile strumento di... Revita al seme. E fa esplodere. Dopo aver... Averlo usato. Chi l'ha mangiato, appunto. Allora, lì c'è un Diugong che non va svegliato. Bene, bene. Lasciamo dormire. Tranquillo. Che... Tanto non ho... Nessun attacco super efficace contro di lui. Purtroppo. Gastrodon raccoglie gomma blu. Ok, andiamo a prendere quel Gastrodon e... E a farci dare la gomma blu. Perché la voglio io. Il mio qui è troppo basso. Ok, allora... Dove ti nascondi, eh? Eccoti qua. Purtroppo però potrebbe essere un altro che ce l'ha. E invece no, è lui che c'ha la gomma blu che io voglio io. Allora, andiamo a mangiarcela. Ok. E così acquisisco l'abilità cui risparmia pipì. Ogni tanto posso usare un attacco e non usare, appunto, i pipì. Allora, ottavo piano. Dai, che ci arriviamo pian pianino. E alle... Ci infossiamo ancora una volta. E qui indrassare al 38. Ok, molto bene. Così come Foss non può essere usata... Qui, ragazzi. In acqua. Anche Sub non può essere usato... Nella... Diciamo, nel terreno normale. Quindi potremmo dire che qua, in Mystery Dungeon... Funziona in maniera inversa, a Sub, Fossa. Quindi, ecco... Io ce l'ho come mossa, ma non provatela in acqua. Sprecherete pipì per niente. Nono piano. Eccoci qua. Dai che li facciamo fuori. Olè. Olè. Pisto l'acqua. Bene, perfetto. Per fortuna non ha tirato nessuno... Perché Gastrodon... Con acquascolo... Può farlo. Mmm, gomma arancia. Ok. La terremo per il Balrog. Stessa cosa per gomma erba. La terremo per peyote. Anche perché con me... Non avrebbe alcun senso mangiarmela. Il cui non salirebbe tantissimo. Anzi, per nulla. Ed eccoci al bivio. Il cosiddetto Varco Salmastro. Come si direbbe in Mystery Dungeon Squadra Rossa e Blu. Ed ecco il team teschio. Che come da progetto ci vuole rubare il team... Il... Scusate, il frammento antico. E ci riesce pure, mi sa. Purtroppo sì, perché... Quindra non è che dice... Ehi, aspetta che me lo riprendo. No. Sta lì come... Un sacco di patate. E guarda la scena. Non agiamo. Vabbè. Però è orcchiabile il loro... Il loro team. Come si direbbe in inglese. Tem. Team. Insomma, il loro host. Team School. Team. E intanto... Chattote si è incazzato perché... L'hanno preso per coglione. Per tutti questi... Tutte queste parti, insomma. Allora, direi di salvare e di... Andare a controllare che non si faccia troppo male. Dai. Ci sono solo cinque piani alla fin fine, dai. Quindra, occupatene tu di quello. Ok. E con un tacco normale. Va via. Che è un piacere. Ok. E pioggia. Ale. Ho visto che qualcuno è andato sopra un Revit al seme. Anzi, no. L'ha raccolto. Spero non sappia usarlo a dovere perché se no... Se è così... Peccato. Raccoglierai un seme base e non mi servirebbe a nulla. Se solo sapessi privazione... Sarebbe una cosa bellissima. Potrei sottrarglielo dalle mani e non potrebbe usarlo. Stariu, vieni qua. Ci devi un Revit al seme. Sai che sono qua a cercare uno Stariu. Ditemi dove l'avete visto e se l'avete visto. Allora, aspettate un attimo però. Non si trova. Io vorrei un Revit al seme. Ah, io mi asco confuso questo stronzo però. L'unica cosa che posso usare è una fossa. Non c'è scelta. Allora, Stariu non si fa vedere. Mi sa che rinuncio al Revit al seme e niente, ragazzi. Ne volevo uno in più giusto perché magari... Chissà, perdo la battaglia. Anche avendone due. Vabbè, dai. In fondo, in fondo, credo che con due Revit al seme dovrei farcela. Ho avuto tanta insicurezza per niente. Se gioco bene le mie carte alla fin fine posso farcela. Allora, mi sono fregato da solo. Adesso Quindra verrà teletrasportata in Africa. Come? In Esploratori del Cielo il compagno viene teletrasportato vicino a noi. Vabbè. E intanto guardate il Epic Fail di Walrein. Ok, siamo al terzo piano. E c'è un altro che ci vuole mazziare di brutto. Ok, gomma chiara. Anche se, a dire il vero, non ho alleati di tipo ghiaccio, ma va bene, così. Chi se ne frega. Magari in futuro ne avrò qualcuno. E intanto però direi di, non so, andare avanti. E cercare le scale per il quinto piano. Maledetto te la tua muta. Intanto Dragonair. Ah, vabbè. Stario Iliota. Non si rende conto che trasformandosi di tipo terra diventa più vulnerabile a Idropulsar. Vabbè, peggio per lui. Ok, allora, deve essere qua. Oh, sì. Sono qua le scale, bene. Non ci sta più niente nello zaino intanto. Peccato, un vero peccato. Ma anche no, forse, perché tanto non è che ci serve a chissà che. Una gomma rossa. Una gomma rossa, una gomma rossa. Peccato che non posso muovermi come voglio, perché sono confuso. Ma che bella la vita. Vabbè, aspettiamo che mi passa, eh. Ok, mi è passata, mi pare. Quindi, Quindra, prenditi la gomma rossa, mangiatela e gioisci. Oggi è un giorno molto biello per te. Infatti, Fiuto Acuto è un'abilità qui, che permette di sapere quanti oggetti ci sono nei dintorni. Anzi, no, non nei dintorni, nell'intero piano. E intanto mi sto un po' in... Mi sto un attimo, diciamo, incantando con le parole. Comunque, acqua di sale... Ah, per me non mi serve, quindi la butto via. Potrei vendere Kecleon, ma non adesso, perché se no... Cioè, dovevo fare spazio per la teca. E intanto siamo arrivati... Fossa Selmastra. Vediamo dov'è Chatot. Dove sarà Chatot? Chi è là? Oh no! Questi bastardi! Ah! Sono stati mandati K.O. da... Da quei tre! Che bello! Che bello! Ci godo, vacca di! Ci godo! Ci godo! Ben vi sta per tutte le vostre... Per tutti i vostri dispetti fatti a noi. Bene, bene! Avete avuto finalmente quello che vi aspettava. Ben vi sta! Ben vi sta! Sì, 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 sì! Ben vi sta! Quindra! Quindra! Risparmiati la pietà verso di loro, dai! Prenditi il frammento antico che ha fatto cadere involontariamente... involontariamente e andiamo a cercare chatota dai che mi so che si è messo nei casini raggiungiamolo dai bene bene andiamo bene bene ragazzi guardateli guardateli bene perché sarà l'ultima volta che troveremo il team teschio poi scompariranno così d'improvviso senza un motivo apparente dunque chi sono dove sono oh eccoli lì un cavutops e due homastar interessante quindi anche di tipo roccia ha fatto da scudere la sua squadra col suo corpo esatto avete visto bene cavutops ah è così è la seconda volta che lo fa da scudo ok bene bene ragazzi sembra che adesso tocchi a noi allora se mi impeto dove sei eccoti qua allora direi di stordire te e adesso e adesso approfittiamo per ammazzare prima gli homastar ahio mi ha colpito però anche se è confuso che sculato che sei stato guarda goditelo questo colpo di fortuna perché non non ti durerà allora finché non rimane però cioè finché continui a muoverti non riesco sai allora facciamo così ti addormento così almeno posso mirare con fossa attacca e KO 3 su 3 perfetto via andatevene show ok molto bene ce l'abbiamo fatta aha e c'è Grovail anche grande molto bene Grovail ottimo tempismo perfetto adesso possiamo andare in 3 alla terra nascosta dai però che sono quasi 28 minuti e dovrei chiudere la parte appena posso salvare dai spreghiamoci ragazzi dobbiamo andare ciao ciao resto della gilda buona fortuna e prendetevi cura di chatot mi raccomando ok perfetto a tutti gli ingranaggi del tempo e ora non ci resta che cosa dobbiamo fare ah ok a parte l'insenatura qua ok forza ragazzi ok un raggio di luce è partito verso di là verso la direzione del mare esatto un raggio di luce ed ecco che proprio da lì arriva l'apras ok e adesso che il frammento antico ha svolto il suo dovere possiamo prepararci e partire ok quindi l'apras sarà il nostro mezzo di trasporto per la terra nascosta ok andiamo a dirardere il mare ma lo faremo ragazzi nella ventiquattresima parte e in questa parte per adesso abbiamo concluso mettete in piace commento iscrivetevi se vi è piaciuto tutto quanto e cosa più importante augurateci buona fortuna per la riuscita della salvezza del pianeta ciao ragazzi e alla prossima